Fred Film Radio 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 film per le mie piacere The Numbers Grazie anche a voi per avermi invitato per questa intervista devo dire sì, io ho passato un lungo periodo di 5 anni in prigionia e devo dire che non erano 5 in realtà inizialmente ma erano 20 anni di condanna che ero sicuro di non dover scontare perché sapevo che sarei uscito prima perché avrebbero lottato per me, io non ho mai pensato di non girare più i film, anzi devo dire che quando sono stato in prigione ho scritto tre sceneggiature ho scritto alcuni libri, diversi racconti e ho partecipato anche alla stesura della sceneggiatura per la mia piece Numbers Numeri Quindi questa era una di quelle sceneggiature che ha scritto in prigione e da dove nasce quest'idea del film? Cebula, ho nato, ce buvo dei scenari che mi chiedono per inizialmente? tra uno strato, tra uno strato brutale e uno strato che ci resta dentro di lui, che ci diamo la possibilità di riuscire a riuscire. Quello che mi ha colpito nella sua storia è il contrasto che era tra la sua vita esteriore e quello che gli succedeva all'interno. Cioè la persona che comunque, essendo brutale, ha trovato la luce per poter ridimersi, per poter rinascere. Sì, infatti in questo film vediamo proprio il protagonista da molto giovane, da bambino, poi che cresce. Infatti volevo fare una domanda molto semplice, dopo aver visto il film, che è un po' uno dei temi principali, diciamo. Secondo lei è difficile, è facile diventare cattivi, man mano che si cresce? Отже, я бачу il film, і ми знаємо, що це історія, починаючи з дитинства, la dittima, яca roste, staje doroslima. E' una domanda, che io voglio задare, c'è tema того, чи легко stati злим, погanim, bрутальным, quando vi rostete? Це цікава історія, цікаве запитання, але тут повинен розуміти контекст. Наші 90-і рокиkil kickingлися в 90-х роках в Італії, тому що після развалу Радянського Союзу нас таки була пустота влади якусь быстро зайняли цей новий угрупований кримінал який сформировався з нічого з колишніх спортсменів таких молодих хлопців які просто були владою деякі роки в наших нашому житті нашої країни яка нас дуже травмувала не тільки у країна загалі будь-яка республіка після радянського союзу таки було досвід і для тихих хлопців які були молоди сильні і такі активні не було іншого шляху для реалізації це був простий хороший шлях вони були королем цього світу і це їм подобалось немає було інших шляху для реалізації тому шлях цього був якось уже преречений трохи dunque per rispondere a questa domanda bisogna considerare il contesto perché è proprio nel contesto che succede questo questo cambiamento verso la verso il brutto consideriamo gli anni dopo la caduta dell'unione sovietica dopo la disgregazione dell'unione sovietica si crea un certo vuoto il vuoto del potere in questo vuoto del potere dal nulla praticamente sorgono questi gruppi criminali fatti di giovani di sportivi delle persone molto attive molto energiche che non avevano un'altra scelta non avevano un'altra soluzione era la strada più facile per realizzarsi è stato un trauma un trauma che diciamo era tipico non solo per l'ucraina ma per tutti i paesi dell'ex unione sovietica in qualche modo era destinato questo cambiamento era un destino purtroppo mi dicono che dobbiamo terminare qua comunque è stato veramente un piacere grazie mille per essere stato dovevamo diacuiamo a testo vi volevo znamo una sovsim malo chassu na jai ale se pucute bullo duzze ticavim duzze d'acquero grazie questa è fred film radio the festival insider